Per Settimana Sport siamo con Ernesto Boschi, allenatore del Marassi. Allora Ernesto, una bella vittoria con una bella squadra perché direi la Taros oggi ha giocato veramente bene. La Taros ha giocato bene, però la conoscevamo, quindi spesso e volentieri siamo riusciti a inibirli un po', a creare dei problemi e poi le partite tante volte vengono decise dagli episodi, spesso ci è andata male in questo inizio di campionato, questa volta invece l'episodio è andato a nostro favore e la partita l'abbiamo vista, probabilmente non era proprio meritata, però ripeto il calcio è fatto di queste cose qua. Domenica abbiamo perso una partita allo stesso modo a San Tisiderio, probabilmente meritavamo qualcosa di più e questa volta l'abbiamo persa. Il calcio è fatto così, c'è un equilibrio pazzesco. Vi dico solo un dato, noi abbiamo fatto otto partite, sei delle quali sono finite due a uno. Per uno o per l'altra? È incredibile, ma sono finite così. Una 3-3 e l'altra abbiamo perso nettamente dalla Caperanese, che comunque è una squadra di un livello nettamente superiore al nostro. A ogni modo direi oggi una vittoria importante perché vi porta, diciamo, dalle posizioni basse della classifica più avanti, una posizione più tranquilla. Guardare la classifica adesso è sbagliato, sia quando eravamo ultimi o in fondo, sia magari adesso che pensiamo di aver risolto i problemi. I problemi ci sono, i problemi vanno risolti, lavorando piano piano, con calma, con un gruppo fantastico perché ho 30 ragazzi, uno più bravo dell'altro e quindi sono sicuro che poi noi alla fine ne usciremo perché abbiamo le qualità per fare. Ok, grazie. Grazie a voi e buona serata. Buona serata. Grazie.